C'è un lamentele per Fabio Roggiolani che viene da Cortona, dice carissimo sindaco e assessori di Cortona, ci spiegate a noi cittadini in, puntini saranno cazzati, per esempio il modo con cui con superficialità viene fatta la raccolta differenziata in questo comune, cittadini sensibili fanno la raccolta sistematicamente, tutto viene ributtato nel mucchio per alimentare l'inceneritore a discapito dell'azienda che non hanno materie prime e non possono creare posti di lavoro, cari, caroi dovresti spiegarci dove va a finire l'organico raccolto dei cittadini cortonesi se non è stato fatto neanche un chilo di compost, aspettiamo risposte pubbliche o almeno le dimissioni di qualche assessore, incompetente ed inconcludente. Caro Alessio io ho portato una persona adatta a rispondere che è Fabio Roggiolani di Sinistra Ecologia Libertà che da sempre si è battuto per il controllo del territorio e conseguentemente per la differenziata sia civile che industriale. Su Cortona esattamente cosa sta succedendo, non ho come dire informazioni precise, i rifiuti vengono spesso purtroppo alcuni di questi che si raccolgono in maniera differenziata rimessi insieme perché una parte della filiera non è ben organizzata, quindi è normale, gravissimo ovviamente, ma può succedere quindi non è una denuncia astrusa, ora non è detto che sia vera. Lo si diceva anche di Arezzo una volta. Sì, secondo me una frazione ci rifinisce dentro le discariche, specie dell'umido perché molto spesso non sono capaci a trattarlo, per varie motivazioni, innanzitutto perché insistono a fare grandi strutture per il trattamento del compost come quella fatta a Terranova Bracciolini che serve soltanto a far puzzare i rifiuti di più. E questo è un errore che io da anni combatto proponendo tra l'altro nuovi sistemi per il trattamento dell'umido, che l'umido è la ricchezza dei rifiuti come altre volte abbiamo avuto l'occasione di dire. Ci sono ormai sistemi per evitare che nel trattamento per la fase in cui lo trasformiamo in compost e ci togliamo energia puzzi, perché è la parte che puzza dei rifiuti. Per cui il trattamento dell'organico è l'elemento fondamentale. Lì c'è un sistema pratico che è quello di spremerli, sostanzialmente spremerli, estrarre tutta la parte umida liquida. Con quella parte umida liquida, che è anche la parte maleodorante, si chiama biodigestione anaerobica. Cioè si mettono in dei grandi silos, che già si vedono quelli in campagna dove si fa il biogas, dove in ambiente chiuso si sviluppa, quindi senza aria, un processo che produce gas. E quello è la parte energetica, il valore dell'umido. Infatti perché io dico che bisogna fare la raccolta porta a porta? Perché così abbiamo un umido buono, che è quasi il 50% dei rifiuti, e ha un grande valore. Però ovviamente va trattato in questa maniera con impianti organizzati in questo modo. Quindi non grandi strutture per il compost, che non servono assolutamente a niente. Ma non servono a niente, in particolare se si insiste a non prendere l'umido porta a porta. Perché se tu l'umido lo trai dai cassonetti normali o dalla gente che lo fa un po' occhio, che ci butta di tutto, finisce che ti si riempie, dopo che hai fatto la vagliatura, dei tappini, delle bic, di tutte le cose di plastica, del vetro, dei pezzettini di vetro. Quando arrivi a utilizzarlo, anche se lo regali, lo spandi in un campo, arriva il contadino e dice ecco, testo, la prossima volta te lo porti nel tuo giardinetto, perché io devo vedere i vetri, i tappini di bicchia, eccetera. Quindi anche la differenziata ha bisogno di un controllo e di un'educazione su chi la... Ha bisogno di una politica per l'uso del dopo. Cioè tu non puoi semplicemente dire... Allora, la raccolta differenziata con i cassonetti, lo ridico per la cinquecentesima volta. Smettete, non serve a niente. Tempo e quadrini, buttati via, detta proprio in aretino. Quadrini sono soldi. Sì, purtroppo, mi figliolo si arrabbia molto che io parlo così, ma ogni tanto... Però sembrano più. Se te c'hai cento euro, se sono soldi non c'hai niente, sono quadrini. Quadrini, quadrini. Ci ti c'hai cento euro, sono quadrini. Allora, per farla più breve possibile, la raccolta va fatta porta a porta, perché in questa maniera tu la mattina nella tua busta, che si chiama col tuo nome, quindi metti esattamente quello che ti hanno detto di mettere e sei in condizione di avere queste frazioni di grande qualità. A quel punto l'industria può crescere in tutte queste frazioni, quindi vetro, carta, eccetera. Perché è conveniente riprendere questa roba? Se in questa maniera non mandi niente in discarica, ma se tu fai finta di farla e le frazioni che raccogli sono miste, inquinate da altre robe, la gente ci mette di tutto e tutto quanto, quelle varie frazioni non sono buone a niente. Quindi caro il mio Alessio, se il comune di Cortona, noi sappiamo com'è, fa la raccolta referenziata su Cassonetti, l'idea di Fabio Roggiolani è quella che non serve. L'idea di Fabio Roggiolani, poi suggerirlo al sindaco, è quella che funziona tutto se si fa porta a porta. Guarda Bruno Vespa che è successo, che c'ha? Sta funzionando, qualsiasi comune che lo fa, ad esempio Capolona l'ha fatto, è passata dal 30% della raccolta differenziata al 70%. Cioè ha un risultato enorme perché i cittadini di veder via quei cassonetti. Uno di Poppi non l'ha voluta fare, dopo quattro giorni è morto, sembra la catena di Sant'Antonio, uno di Cortona l'ha fatto, è vero o no? Ascolta finiamo con gli auguri. Sto tranquillo. No hai detto, uno di Subbiano, a Subbiano la fanno, tutto funziona. Sì sì. Mi dici questi comunisti, le battute le capisco proprio. Ogni tanto. Io torno di destra. Le dice qualcuna tragica per cui come si fa? Mi rifai gli auguri di Natale, benché tu sia un comunista? Eh io, poi Natale è internazionale, anche per gli altri. Ora c'è rosso ma c'è anche bianco sul Natale. C'è ogni cosa. Buon Natale a tutti quanti. Non era tanto convinto.